Fiorenzuola si racconta l'Ottocento svelato, una mostra da percorrere, da scoprire attraverso i vicoli di questo borgo assolutamente incantato ed è visitabile fino al 29 settembre 2024. Comincia il tutto con la ricerca di documenti d'archivio, parliamo del 1800, della loro comune di Fiorenzuola. Abbiamo voluto con questa mostra portare a conoscenza di tutti i contenuti di questi documenti, di questi atti pubblici, dei personaggi del XIX secolo che hanno gestito la vita della comunità di Fiorenzuola di Focara. In questa circostanza, nel corso dell'inventariazione dell'archivio, abbiamo trovato documenti anche inediti, non conosciuti, abbiamo incontrato personaggi che hanno fatto la storia del XIX secolo. C'era un bando della regione a cui abbiamo come comune partecipato e abbiamo chiesto di poter sistemare il non ordinato archivio di Fiorenzuola. Fiorenzuola a maggio d'anno scorso, mi sembra, è stato dichiarato uno dei borghi più belli d'Italia. Allora abbiamo detto perché no, uniamo questa cosa storia, turismo, cultura, poi capitale della cultura, cioè più di così. Quindi cosa abbiamo detto? Questo è un archivio che per più di 50 anni non è stato visto da nessuno. Ma anche prima certi argomenti non venivano considerati importanti dagli storici e quindi succede che era un archivio del tutto inedito. E quindi un archivio inedito fa gola a chi vuole fare della storia, comunque far conoscere veramente le comunità di allora, come sono diverse e come, diciamo, nell'introduzione l'indole umana è sempre quella per cui alla fine insomma tutto torna. Dentro gli archivi si scopre la vita, la vita delle persone del passato e si scoprono tutte quelle che loro hanno, quello che hanno vissuto, quello che hanno passato, le loro avventure, le cose importanti ovviamente, i grandi eventi storici, ma nello stesso tempo anche la vita assolutamente quotidiana, la vita di tutti i giorni. E nel caso di Fiorenzuola, chiaramente attraverso questi documenti che poi sono relativi essenzialmente al XIX secolo, siamo riusciti a immaginarci una Fiorenzuola molto vivace, molto piena di vita, molto piena di attività. Un borgo dove c'era una vita intensa, c'erano tante persone, tante persone appunto che poi frequentavano questi vicoli, queste strade e rendevano vivace e attiva il borgo. L'abbiamo voluto raccontare nei migliori dei modi per dare alla comunità del XIX secolo di Fiorenzuola un volto, ma anche una voce. Per questo abbiamo coinvolto gli studenti di SIA, di Urbino, che hanno realizzato dei grafici d'autore moderni nella loro esposizione, che abbiamo voluto esporre nelle vie, nelle piazze del borgo di Fiorenzuola. Abbiamo coinvolto anche l'Associazione Le Voci dei Libri, veramente una grande esperienza. Devo ricordare anche il supporto tecnico e le voci che si sono nel frattempo susseguite nella registrazione audio e parliamo proprio dell'Istituto d'Arte Mengaroni di Pesaro.